No, no, segno che sono due grandi professionisti, sia della Fiore che Contini, Paolo lo conoscevo, ho giocato a Parma, Matteo lo conoscete che giocava qui l'anno scorso, però posso garantire per loro perché sono due professionisti e due grandi giocatori. Purtroppo siamo in tanti lì dietro e tante volte non c'è spazio per tutti, però per centrare la salvezza non dobbiamo fare un campionato normale, dobbiamo fare qualcosa di straordinario perché le cose normali non ci arriviamo poi alla salvezza. Per fare qualcosa di straordinario dobbiamo fare come abbiamo fatto a Milano, dobbiamo andare a prendere punti fuori da Siena.